Ecco l'Italia dei quartieri, dato che non ha una sede Dove fare riunioni, incontrare i cittadini Aveva chiesto all'amministrazione un mini appartamento Perché questi sono appartamentini E praticamente uso gratuito Però le spese mi incontro all'amministrazione Però tutt'oggi nessuna risposta Soltanto che qui è un degrado Proprio anche per la gente Siamo vicino a una scuola E ci saranno animali C'è i bambini che naturalmente vanno a scuola E' una cosa degradante